E' stato presentato nell'aula magna dell'Istituto Marconi il report del punto ascolto per l'anno scolastico 2017-2018 dell'Ufficio regionale per il Veneto su temi del bullismo, della dipendenza, degli smartphone, presenti dirigenti scolastici delle scuole di Verona e provincia, dalle primarie alle secondarie, sia statali sia paritarie. Contestualmente sono stati presentati... Emerge un quadro ovviamente ricco di dati che portano a tantissime riflessioni in mondo degli adulti e anche degli educatori, anche se Verona fa da un lato il monitoraggio di questi comportamenti, dall'altra attua in sinergia con le forze dell'ordine, con gli enti comunali e anche con le scuole, ovviamente sempre dei percorsi e delle azioni formative. Contestualmente sono stati presentati i dati relativi a una ricerca condotta sui ragazzi delle scuole in merito alle droghe. E' emerso che la droga purtroppo circola ancora nelle nostre scuole, i ragazzi riescono a dirti quanta ne gira, come viene usata, quando viene usata e dove viene usata. E quindi questa indagine che è di un campione di oltre 4.000 soggetti, è un'indagine molto importante per far capire effettivamente la realtà come sta. E' un'indagine che sottolinea anche un altro aspetto. E' stata fatta su ragazzini anche di 13 anni e quindi abbiamo delle notizie estremamente interessanti per capire come inizia tutto il percorso e quindi poter strutturare delle iniziative di prevenzione più mirate. I dati fanno riflettere e andranno sviluppati a livello istituzionale per ricercare modalità efficaci di prevenzione. Tra gli atteggiamenti preoccupanti ci sono l'autolesionismo, la dipendenza da videogiochi, bullismo e cyberbullismo. Allora emerge che i ragazzi sono purtroppo abitudinari di comportamenti notturni, ad esempio il bumping, perché utilizzano chat anche tutta la notte, per cui il giorno dopo sono un po' addormentati quando arrivano a scuola. Hanno tantissime relazioni anche online, anche con persone che non conoscono nella realtà. E questo è un dato molto preoccupante, a mio avviso e avviso degli esperti. Altro dato molto sintomatico è che gli adolescenti vedono le risposte delle loro domande, tutte sulla rete, ovviamente non filtrata dall'adulto della situazione.